Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio mondo di cubi Ragazzi ho già fatto il primo stacco, diciamo prima di cominciare E infatti ho già fatto lo scavo per la farm di villager Allora, come funzionerà questa farm? Prima di tutto vi faccio vedere che ho messo in pacifica Per evitare che magari per un'esplosione di un creeper o per qualche altro casino Possiamo distruggere appunto questo dungeon Quindi adesso che appunto ci lavoreremo vicino preferisco tenerlo il più protetto possibile Allora qua ho fatto una piccola cassa, l'ho riempita di cobblestone Ma ne ho già presi 7 stack perché andremo a creare un nuovo strumento Che si crea così, guardate un po' Voilà, questo è un gettatore Noi ne andremo a fare ben 64 Quindi andiamo a fare questa cosa qua ragazzi Guardate un po', ok Perfetto, si ne verranno fuori un bel po' ragazzi Perfetto, ecco di qua 64 gettatori Come funziona il gettatore? E' molto semplice Praticamente il gettatore quando riceve un impulso Se dentro ha appunto un item Adesso facciamo esempio Metto dentro un item Metto sopra appunto qualcosa per dare un impulso Io vado sopra E l'item mi viene dato, ok? Questa cosa qua la faremo anche noi Ma non per noi Bensì ma per gli zombie Adesso vi spiegherò meglio Praticamente quando uno zombie si spauna Riceverà in mano un oggetto Quale può essere la cobblestone Comunque un oggetto abbastanza inutile E così non si dispaunerà Sarà molto semplice il meccanismo Inoltre andremo mettere qua sotto Una lampada di pietra rossa Per decidere quando azionare O disattivare il nostro dungeon Comunque per adesso andremo a fare tutto quanto in cobblestone Ecco adesso devo andare un attimo a rompere le torce Ecco un altro motivo per il quale io preferisco lavorare A queste cose in pacifica Altrimenti si spaunerebbero mob Sarebbe un po' un casino Allora faremo prima di tutto una cosa del genere Ah e mi raccomando se avete una farm di ferro Prima di appunto cominciare a far questo lavoro Verificate le coordinate della farm La farm è esattamente alle coordinate Guardate le z in questo caso Alla z 253 se non sbaglio Ecco quindi più 80 Devo arrivare almeno a 333 Quindi qua ho fatto un segno Da qua in poi comincio a piazzare delle porte Poi vi spiegherò perché Praticamente Anzi ve lo spiego subito così riuscite a capire Praticamente noi faremo spawnare i zombie E li uccideremo E così terremo anche delle esperienze e i loro drop Se invece si spawnano degli zombie villager Noi invece che appunto ucciderli lì Faremo diventare villager normali E da lì poi li libereremo Loro potranno uscire E scapperanno perché qua sarà pieno di zombie Logicamente tutti quanti bloccati Ma scapperanno andranno in quella direzione Dove ci sarà un villaggio con delle varie porte Verrà una cosa abbastanza carina Inoltre voglio anche precisare che lavorando a questa profondità Troveremo tante 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 risorse Quindi adesso andiamo a Allora qua lasciamo questo blocco Perché qua ci andrà poi la lampada di pietra rossa Qua andiamo a fare ancora un ulteriore Mi serve un'altra cobblestone Andiamo a fare un'ulteriore Espansione diciamo Allora andiamo a rompere questi blocchi qua Ok? Lasceremo un blocco Di distanza dallo spawner appunto E cominceremo a piazzare blocchi Così Ok? Perfetto Voilà Voilà Ecco qui Perfetto Ok Adesso cosa si va a fare? Molto semplice Allora adesso che abbiamo questa situazione Andiamo qua a mettere delle slab Le slab le abbiamo già fatte Si creano così Perfetto Andiamo a fare 12 per ora Ok? 12 E andiamo a selezionare i punti In cui noi vogliamo che si spawnino I nostri I nostri zombie Allora facciamo attimino un conto Allora 1 2 3 No facciamo 1 2 1 2 1 2 Ok allora 1 2 1 2 1 2 Perfetto Queste cosa saranno le celle Che avremo a disposizione Si spawneranno appunto Alcuni mob Adesso vi voglio far vedere Allora qua andiamo a togliere le torce Tutte quante Ok Andiamo a coprire tutto quanto Per ora Vi ricordo che per ora uso la cobblestone Poi andrò a utilizzare tutto quanto Diciamo in una maniera migliore Ok Perfetto Si lo so la cobblestone potrebbe addirittura non bastare Ma speriamo di no Ok Invece no basta Che fortuna Molto bene Ok adesso qua andiamo a fare una cosa così E abbiamo già Un buon Un buon risultato Perché appunto di qua Dovebbero già Cioè Dovemmo già essere A buon punto Ok si è pure rotto il piccone Qui adesso cominciamo a usarne Un altro Oddio Mi è ritornato in mano Non so che cavolo di bug fosse Ma va bene Comunque Ehm Ah poi qua raccoglerò anche dell'ossidiana Si perché Ho il piccone con efficienza Quindi penso di testarlo qua Allora qua appunto andremo a fare le slot Come ho detto Andiamo a farne una qua Perfetto Eh sì Io magari vorrei riprendermi la mia cobblestone E ripiazzarla così Ok Allora andiamo A rompere E ripiazzare A rompere E ripiazzare Questa fana qua è abbastanza innovativa Perché non l'avevo mai vista Comunque Adesso poi vado a far vedere bene Perché diventa una cosa abbastanza carina Comunque Allora andiamo a piazzare anche qua i blocchi Perfetto Andiamo a piazzare anche qua il blocco Perfetto Adesso Adesso Cosa bisogna fare? Bisogna andare a posizionare i dispenser O meglio i gettatori Le posizioniamo esattamente Ognuno per ogni Per ogni slot Ecco Allora andiamo a posizionare A faccia in su E andiamo a mettere sopra Ognuno di questi Delle pedane di Legno Ok Delle pedane a pressione di legno Mi raccomando Una volta tanto Consiglio quelle di legno Io di solito Consiglio sempre L'utilizzo di pedane Di Di stone Perché appunto Hanno una differenza Sostanzialmente questa Io se butto Un item sopra Alle pedane di legno Guardate cosa succede Si attivano Ok Ebbene Se io Lo faccio su quelle di stone Non succede In questo caso Sarà meglio far così Adesso vi spiegherò anche il perché Comunque Andiamo prima di tutto A fare questa cosa qua Perfetto Vediamo se si azionano Si Sembrano funzionare tutti Perfetto Molto molto bene Andiamo anche a fare un'altra cosa Già che ci siamo Andiamo a mettere anche qua Un attimo Delle slab Ma giusto per ricordarci bene Come funziona Ok Tanto qua poi andremo a A fare delle piccole modifiche Allora E pensiamo un attimino Allora Abbiamo fatto tutto quanto Adesso di qua Volendo Potremmo già inserire Dei Sì degli item Ma non lo facciamo ancora Allora Quindi Adesso andiamo a Prendere D'altra Cobblestone Ne abbiamo No Ebbene Quindi faccio un piccolo stacco Ne prendo un po' Ok ragazzi Eccoci Ho preso un po' di cobblestone Allargando il corridoio E come dicevo prima Lavorando a queste altezze Si trovano facilmente Anche di minerali Molto bene Molto bene Allora Andiamo a prendere I lapislazzoli Quindi Ok Li mettiamo magari Momentaneamente nella cesta Insieme a questa Mostone Che è abbastanza Rare Ok Adesso vi faccio vedere Che con questa cobblestone Andiamo Prima di tutto A ridurre Lo spazio Se non può più farlo sparire Qua c'è pure del carbone Che devo prendere Ok ragazzi Eccoci ho preso il carbone Tappiamo tutto quanto Adesso per evitare Di lasciare spazio Per lo spawn Di zombie Appunto Perché vogliamo che Li zombie si spawnino Tutti quanti qua Adesso andiamo a fare Un muro qui Perfetto Anche qua Andiamo a tappare tutto Perfetto Ok Anche qui E' molto semplice Il meccanismo della farm Ve lo dico già Però Vedrete che è una cosa Molto utile Ok Perfetto Qua tappiamo tutto Tanto poi penso che Verrò a fare delle decorazioni Tipo col quarzo O cose così Adesso Uso la cobblestone Poi andrò a sostituirla Comunque adesso Bisogna fare un'altra cosa Ovvero dividere Tutte quante le celle Perché appunto Li zombie potrebbero Eventualmente Se non dico scappare Andare a Ritrasformare In zombie I villager Che abbiamo appunto Convertito Quindi andiamo a Separare le loro celle Eccole qua Qua già si potrebbe Fare un'altra cella Ok Perfetto Quindi andiamo a Fare anche qua Un'altra cella Ok Molto bene Allora Quindi qua mettiamo Un dispenser Perfetto E altre pressure plate Perfetto Molto bene Ok sto dicendo Troppe volte perfetto Molto bene Ma va bene Perfetto No sto scherzando Allora Andiamo a mettere Anche qua La cobblestone Altro dispenser Spero che vi piacciono Comunque I meccanismi Che facciamo Allora Andiamo A mettere Anche qua La pressure plate Perfetto Continuiamo Con la divisione Quindi Allora qua Bisogna tappare Perché altrimenti Si spawnano Qua bisogna tappare Qua bisogna tappare Qua bisogna tappare Tutto quanto Di nuovo Ok Perfetto Anche qui E Perfetto Perfetto Così stiamo andando Molto bene Abbiamo finito Di nuovo Cobblestone Malissimo Prendiamo le altre Ok ragazzi Eccoci Qua vi ricordo Che metteremo Negli angoli Altri dispenser Oddio Ok riprendiamo la roba Tac Anche qui L'altro dispenser Molto bene Praticamente cosa succederà si spawnerà il mob e dov'è il dispenser ce l'ho qua perfetto il mob cosa farà si spawnerà in queste zone diciamo farà una pressione su questa presupplate e azionerà il dispenser adesso io da qua vedete che con un po' di fatica ma riesco comunque ad accedere al dispenser e lo riempirò con delle cose inutili quali la cobblestone la terra e appunto appena si spawnerà gli verrà droppato questa cosa lui potrà raccoglierlo o no se lo raccoglierà rimarrà appunto rimarrà inspaunabili diciamo indespaunabili ecco altrimenti se non lo raccoglierà l'item resterà sulla pressupplate e impedirà che un altro zombie spawnandosi le loro azioni e sprechi comunque della cobblestone anche se non è proprio uno cioè non si può definire spreco buttar via della cobblestone ma va bene comunque buttiamo via si buttiamo via più o meno andiamo a coprire anche questa zona perfetto mi raccomando non tralasciate nessun blocco e ultima cosa nelle caverne sottostanti o comunque vicine andate a fare un'illuminazione perfetta cioè non si deve spawnare assolutamente nulla anzi vi consiglio di fare questo trucchetto ovvero impostazioni video brillantezza al minimo ok perfetto e qua vediamo che ci sono molti punti facciamo un esempio tipo qua ok possiamo vedere molto meglio i punti più scuri ecco qua ce n'è tipo uno anche qua ne mettiamo una deve essere perfetto vi ricordo perfetto non ci deve essere neanche un errorino ok quindi anche qui anche qui ok direi anche una qua e basta qua come vedete sarà molto più scuro rispetto a prima adesso rimetto brillante altrimenti su youtube si vede male ok e niente adesso qua c'è un pochettino di dislivello andiamolo a eliminare subito ok e adesso cosa andremo a fare andremo a testarla perché così già dovrebbe funzionare logicamente carichiamo i dispenser li carichiamo con magari tre pezzi di ghiere ciascuno che è già tanto tanto poi potremo andarli a riempire tutte le volte che vorremo cosa importante dovremo impedire che i nostri cari zombie scappino perché praticamente queste celle li riescono a tenere intrappolati solo per un motivo perché sono alti tre ce ne sono alti due e le celle saranno alte un blocco e mezzo quindi adesso cosa andremo a fare andremo a abbassare il livello delle celle oddio qua ne ho messo uno in più la perfezione per favore no ho fatto già una cazzata comunque abbiamo visto che funziona almeno perfetto ok perfetto anche di qui ok sia un po difficile da ricaricare ma al massimo se proprio sarà così difficile faremo anche un impianto per il appunto per ricaricarlo automaticamente comunque qua chiudiamo qua chiudiamo ok e adesso si dovrebbero spawnare dei mob ok adesso qua appunto tolgo la torcia perfetto e vado a fare questa cosa qua vado a mettere dei blocchi sopra ogni cella ok un blocco solo è sufficiente molto bene ok ok e ok basta direi che così è sufficiente adesso proviamo sottolineo proviamo perché è la prima volta che lo faccio ad azionarla magari non è difficile proviamo in normale ok e vediamo che molti si spawnano fuori ok molti si spawnano fuori ok allora calmi calmi abbiamo già visto che qua bisogna mettere dei blocchi che non avevamo messo prima di tutto ok poi bisogna allontanarsi aspettare che si spawni ancora qualche altro mob oddio dai spawnati per favore su dai spawnati non si spawna perché normale mettiamo difficile vai ok continua a spawnarsi lì sopra quindi credo che bisognerà andare a mettere delle pressurplate non delle pressurplate delle delle oddio mi viene in mente il nome aspettate mettiamo un attino pacifica di nuovo adesso vi chiedo di avere un secondo di pazienza ma è la prima volta che la faccio anche io comunque allora è molto semplice facciamo così e facciamo delle slab ok e andiamo a mettere le slab per tutta la farm così in modo che non si spawni nessun mob perché i mob non so se lo sapete ma non si possono spawnare sulle slab ok direi che così dovrebbe funzionare stavolta proviamo un attimino qua vado a fare anche un piccolo passaggio perché qua appunto dovremo andare a prendere poi dell'ossidiana come avevo detto prima mi insegna anche un trucco per chi non lo conosce posizionare una torcia sotto la ghiaia la fa rompere più in fretta beh piccoli trucchetti di minecraft proprio da veterano comunque andiamo di qua se non sbaglio ok qua c'è la nostra caverna bisogna stare attenti che non si spawnino qua piuttosto ok perfetto beh si qua non si dovrebbe spawnare nessuno spero e credo spero e credo ok 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 si dai non si dovrebbe spawnare nessuno qua perfetto adesso andiamo a fare ancora un altro test quindi andiamo a fare delle torce perché potrebbero servirci ok torce carbone ok e andiamo di nuovo a fare una prova quindi andiamo a fare tac e voilà e infatti funziona come vedete il mob si spawna e viene bloccato immediatamente ok non ci resta altro ragazzi che appunto aspettare che il mob si spawnino e verranno per forza spawnati lì in questo caso il mob non ci interessa beh bisogna comunque aspettare perché ci sarà molto meno efficiente a livello di spawn comunque cosa succederà questo mob noi lo andremo a uccidere e se appunto era un villager potremmo potremmo convertirlo e poi liberarlo e ok si è accennato qualcos'altro eccolo qua un altro zombie si si ragazzi funziona perfettamente come vedete la farm è efficiente al massimo molto bene sono veramente contento e niente ragazzi questo è il lavoro adesso andrò a decorare la camera e andrò a prendere della pietra rossa e cioè della lampada di pietra rossa e del quarzo e anche della clay per decorarla ok ragazzi rieccoci sto riempendo tutto il corridore di terra perché qua voglio fare un corridore di erba infatti qua in fondo ho posizionato uno di quei pezzettini di erba che avevo messo con il silta che avevo preso col silta scusate non messo comunque qua faccio questo corridore di terra che pian piano si doveva allargare però è una cosa molto carina ma lo scopriremo poi nel prossimo episodio infatti anche questo episodio purtroppo è giunto al termine vi faccio vedere giusto giusto due cosette molto velocemente qua ho tappato la caverna qua ho raccolto un po' di ossidiana come vedete ne ho raccolte 34 unità e ho raccolto anche un secchio di lava la verremo poi a fine di raccogliere magari in un altro episodio detto questo vi faccio vedere l'ultima cosa appunto veramente questo qui è l'ultima poi appunto mi tocca salutarvi ovvero un piccolo circuito che ho fatto con delle lampade di redstone una anche sotto il dungeon che blocca la farm e appunto tramite questa leva si può attivare o disattivare a nostro piacere e ve lo faccio anche vedere tanto è una cosa molto molto semplice e veloce e alla portata di tutti assolutamente questo circuito qua come vedete c'è una lampada di pietra rossa un repeater e della redstone che si ricollega la leva ok molto semplice se invece noi entriamo qua vediamo che quella lampada è esattamente sotto il dungeon di qua c'è un pezzettino di redstone che si attiva perché il ripetitore passa il segnale alla redstone già la lampada di redstone che lo passa alla redstone e parte dove va a finire? va a finire esattamente qua dove il segnale come vedete sale, gira, arriva qui e qua si stava indebolendo quindi ho messo un ripetitore per non farlo appunto spegnere completamente e il ripetitore appunto aziona di nuovo la redstone e da altra energia e la divide in tre corredori ovvero uno per questa lampada, uno per questo e uno per questo ho anche messo due torci dentro per avere una buona illuminazione all'interno del circuito e l'altro ragazzi quindi direi che abbiamo finito, questo qua è il circuito completato qua andrò a fare delle decorazioni, infatti andrò ancora a prendere dell'altro legno andrò a fare delle cose ma le faremo logicamente nel prossimo episodio e ragazzi io come al solito vi ringrazio per tutto, davvero per tutto ragazzi e qua andrò a mettere a posto e vi do appuntamento al prossimo video con appunto tutte quante le novità e con tutte quante le nuove costruzioni quindi ragazzi oh qua l'erba si comincia già a allargare io come al solito vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio ciao a tutti